Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e siamo qui con Last Stop. Allora, abbiamo finito il primo capitolo, Bambule di carta, Paper Dolls, che ci ha lasciato con un cliffhanger alla fine, in cui ci siamo risvegliati nel corpo del giovane. Adesso ci sono altre due storie da analizzare, affari interni o pericolo sconosciuto. Io direi di andare con pericolo sconosciuto, mi garba di più. Come sempre ragazzi, io vi ricordo, siamo su Serie X, il gioco è presente nel Game Pass, sia della console sia del PC. Quindi se voi avete il PC, avete il Game Pass, potete comunque giocarlo e buona visione, perché questo gioco mi lascia tante sensazioni positive. Allora... Dunque, vediamo, andiamo tutti i messaggi. Da dove è che vanno? Mamma mia, quanti? Allora, le sci-chimiche sono reali. Cercatori di verità. Rimasto a casa. Siamo da me. Vieni. Salvezza difficile? Certo, certo, dai. Siamo da me. Andiamo. Mi deve rispondere? No. Mi deve rispondere. Allora... Hai degli otto. Ah no, ok, stanno giocando a carte, presumo. Perché qua non posso andare avanti? Cioè, sono muri invisibili in camera mia? Assurdo. Assurdo. No. No fish! No! Suck it, loser. Got any kicks? Slippi out without saying goodbye. I'm just popping out. Won't be too late. Not so fast. Have you done your homework? Yeah. Liar. Can I go out, Mum? Of course, couldn't. Say hello to Vivic for me. Would it kill you to spend some time with your family for once? What are you going to do, Emma? Arresti me? Take the uniform. So dark. I think you look very handsome. Handsome? You look very tidy, dear. Annulla il matrimonio. Annulla il matrimonio. Are you sure you don't want to call off the engagement, Ash? Oh, I guess I'm just stuck with her at this point. Off you go, then. Text me when you're on your way home, love. Quindi, sono... La mamma, ma la poliziotta era nostra sorella, no? Mattrigna? Non lo so. Non ne ho idea. Eh, guarda che carica, guarda che carica con le cucchia, che corre così con le cucchia. Guarda che carica. Non so dove debba andare, ma... Andiamo. La città è piena di queste macchine gialle. Di queste 500 gialle. Guarda, è una panda. Ah, devo dire che i modelli saranno quasi... Modelli reali di auto. Quasi. Guarda, quella è una Fiat Panda. Una Renault Twingo. Credo che sia la Twingo. Un'altra panda. Quella è una Fiat Panda, dai, palese che sia la nuova Fiat Panda. Ma io dove devo andare? Tanto sto raschiando la ringhiera. Fra una DMV. Non ne ho idea. Il gioco non ti dice... Vai da lui. Sì, ma dove lui? Specifica. Devo passare? No. Non devo passare. Io sarei già sudatissimo. Ho già morto per terra. Poi 10 passi, ma... Mi fa piacere che questa sia così in forma. Pericolo sconosciuto. Eh... Sì, vediamo, vediamo. Eccoci. The Codfather. Father. Father. Enson, giustamente. Ma se hai 5 pound, potrei riuscire a fare l'acqua con una rocca o qualcosa. Sì, allora. No. Se l'alarmamento si scopera. Sei scoperto? No. Non voglio assicurare i vecchi. Non c***o. Ehi, Donna. Ehi, hai riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire. Allora, come? Come, dove sono i miei 3 chips e sauce curry? No, il padre ha avuto di cercare per ieri. Siete in un frio di profilo di profilo. Che schifo. Hai messo... Diciamo che tutte e tre le risposte non è che sono proprio il massimo. E se io non rispondessi? Andiamo. Ah no. Sceglie da solo. Non è molto interessante. Solo un po' di scampi. Gli ha delle persone un po' di riuscire. Beh, qui va questa stella Michelin. Ehi, stavre. What a proud dynasty you'll one day inherit. Are you both finished? Cosa c'è da... Sono due che si apacciano. Dov'è il problema? Vuoi disturbarli? Bella ragazza. Chi se ne fotte? Non c'è. Chi se ne fotte? Ma sei scemo in culo te? Che si è stupendo una guerrilla armata. Lo scopo. È probabilmente solo una cosa dritta sex. Una cosa dritta sex, credo. Oh sì. Non ne ho considerato. Probabilmente una cosa dritta sex, sì. Dobbiamo giocare le appuntamenti a Gingera. Scusate, guardate! Scusate! Non credo che Emma potrebbe sapere il significato di covert Scusate! Vuoi fare un gas? Oh, bello! Scusate! Ok, Becky, cosa preferite fare? Sei in presenza per 10 anni ma quando arrivi arrivi hai 20 milioni di pound per tax-free o prendi il 20 milioni di pound ma sei quando sei 35 Ah! Ah, devo fare il... Esatto! Fare il simpatico Fare il simpatico ancora vediamo se le trovo tutte però non ho idea di dove... Ah, tipo qua, ok non capisco il senso sinceramente mi sta sfuggendo il senso ma... ne è rimasto uno solo ne è rimasto uno solo niente, era un minigioco però è strano però è strano ma... 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 ma scusa? mi sa che qui qualcuno si farà male non lo so eh ma... 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 e come fanno a non accorgersi di tre che corrono dietro ma dai oh gentrificazione gentrificazione che cazzo è? maybe he owns the place he could probably make a fortune can break him into flats ok but what about all those people he's been disappearing they're probably all inside having fun what do you think Becky? should we take a look? I'm game you two are mental what are you gonna do? just walk through the front door Qua finirà merda, già lo so E la cosa mi stuzzica perché Mi piace sta, mi piace Ah devo Devo aprire Ok Dove? Ah da là No dove Dov'è data secondaria? Ah quella là, giusto L'unica, l'unica porta che c'è Oh, è l'unica Ma il muro è alto quanto noi Dai, non serve neanche la cassa Cioè, il muro è letteralmente alto quanto noi Vabbè dai Apprezzo Apprezzo l'inventiva degli sviluppatori Di metterti delle Una stradina da seguire Qua finirà a merda Io continuo a ripeterlo perché È vero Finirà a merda Ma che cazzo Ma Sembra una buona idea Ecco Andiamo La vedo Ma perché devi arrampicarti da lì? La vedo Io ripeto La vedo a merda Quanti tassi devo premere? Anche questo Ma avete tutto premuto insieme? Sì Ecco Ma che cazzo Ecco Cazzo Cazzo Cosa hai fatto? Cosa vuol dire? Era attaccare Donner Ora hai fatto questo Un piccolo apprezzamento qui Ho giusto salvato la tua vita Un uomo morto Non è morto è? Ha super powers Probabilmente non può essere morto Ehm Oddio la situazione è un po' degenerata Io non ho idea di quello che debba fare Wow Hold on, non facciamo nessuna decisione Non mi sono in problemi per questo Questa era la tua idea Donner, cosa se la tua sister trova questo? Beh, cosa facciamo allora? Dobbiamo riuscire Proviamo dentro, fuori di vista Sì That should hold him for now Thank God he's still breathing Ok, so let's call an ambulance We can call anonymously They'll just show up We don't have to be here Hang on We've left our fingerprints all over the place And your sister's a copper? Well, we're screwed We can't let him go For the time being He has to stay here Ehm Ecco Ehm Sì Mi sa che Emma? Where the hell are you? Tell me this incident What's wrong? I'm still out with Rebecca and Becky Well, I'm at Rebecca's right now And you know where to go Detente sul contignale Che sono CON Loro Ungila un po' Menti Ehm...Menti Cosa disse ha Rebecca? I meant near Rebecca Come as soon as I'll be there Donna Donna, don't you dare hang up with me Well? This was Emma Your sister Eh, sí She's out of Rebecca's place right now Emma, is that the codfather? Oh no, è awake E quindi? No, è finito così? No! No! No, dai! No, che ci sono divasto male! No, vabbè! Ragazzi, il video termina qui Adesso c'è da fare il candidato Potrei farlo anche questo attaccato Ma preferisco dare ogni capitolo Il suo spazio, sinceramente E almeno all'inizio Poi vedo come il gioco evolve Anche perché piacerebbe che ci siano i tre incipit Credo, poi vedremo come la storia va avanti Quindi ragazzi, grazie per avermi seguito Vi ricordo di commentare e condividere Settere un bel mi piace Iscriviti al canale E noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao ragazzi!